Come faccio a capire ciò che è presente al di sotto del suolo dove ho intenzione di apportare delle modifiche? Tubazioni, cemento, altre costruzioni, eventualmente delle cavità o degli smottamenti che potrebbero precludere la qualità dei miei lavori futuri? Come fa un team di archeologi a poter scoprire cosa si nasconde al di sotto del suolo in un'area potenzialmente di interesse archeologico e storico dove nessun altro fino ad oggi è riuscito a riportare alla luce materiale potenzialmente di inestimabile valore? Il georadar è certamente quello strumento che risponde a queste domande e in questo video vi parliamo delle sue funzioni e del suo utilizzo. Il georadar è uno strumento composto generalmente da una maniglia di trasporto, un'unità di alimentazione che andrà a generare corrente per tutto il sistema, un'unità trasmittente ed un ricevente che elabora il segnale e lo invia al pannello di controllo. A sua volta il pannello di controllo può essere monitorato con un tablet oppure un pc successivamente alle scansioni e l'elaborazione dei dati viene poi effettuata dal sistema. Questo rende il georadar uno strumento estremamente flessibile poiché è possibile poi in seconda sede condividere i file che sono stati catturati durante le scansioni, eventuali screenshot o direttamente riprese video delle scansioni in corso e poterle poi condividere con team di esperti, come presentarle e mostrarle su altri schermi. Avvalendosi di una tecnologia di ricerca non invasiva, sfruttando l'invio e la di protezione di onde a varia frequenza, il georadar è in grado di rispondere tramite un grafico che osserviamo sullo schermo del pannello di controllo che si chiama radargramma donandoci delle rifrazioni che altro non sono che la risposta degli strati del sottosuolo a quella data emissione di frequenze. Quello che poi andiamo ad osservare su questo grafico a schermo sarà possibile ulteriormente metterlo in pausa, evidenziarlo, annotare delle anomalie che si mostrano sullo schermo con forme variabili che possono essere arcuate in una certa misura relativamente all'ampiezza dell'anomalia del sottosuolo, oppure planari e continue. Questo genere di visualizzazione è particolarmente efficace poiché le rifrazioni e le anomalie che sono nel sottosuolo vengono mostrate su questo grafico che vediamo a schermo ad una data profondità che è possibile ovviamente controllare sul grafico. L'utilizzo del georadar si rivela particolarmente efficace anche in zone di difficile accesso data la sua semplice manovrabilità e la facilità di trasporto. Con alcuni modelli è possibile la scansione anche in verticale poiché grazie alla capacità di antenne a varia frequenza potremo osservare comunque un buon risultato anche a svariati metri di distanza dall'obiettivo. Per qualunque dettaglio, curiosità o specifica sull'attrezzatura georadar, i vi compreso la formazione che teniamo regolarmente in aula, contattate i link e i recapiti che trovate nella descrizione di questo video. Un saluto dal team di AMHE Detector. Ciao!